Rieccoci su Sicilia 24 per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Partiamo da Catania e dall'intervento provvidenziale dei carabinieri con una donna che voleva suicidarsi ma i militari sono riusciti a salvarla. Vediamo il servizio. La vita di una donna salvata grazie al pronto intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania. La scorsa settimana una quarantenne catanese ha tentato di porre fine alla sua vita provando a gettarsi dalla finestra sita al quarto piano di una palazzina di un quartiere residenziale della città etnea poco prima che i carabinieri riuscissero a raggiungerla. La tempestiva operazione di salvataggio ha avuto inizio grazie a una chiamata di soccorso giunta al 112 durante la quale un vicino di casa aveva raccontato ai militari dell'arma che la donna era seduta sul davanzale della finestra della sua camera da letto a un'altezza dal suolo di circa 15 metri con chiare intenzioni suicide. I carabinieri sono quindi giunti in pochi minuti presso l'abitazione della malcapitata riuscendo ad accedervi in maniera discreta. Una volta dentro l'equipaggio si è poi avvicinato silenziosamente alla camera da letto e attraverso una rapida manovra ha afferrato la quarantenne ancora ignara di quanto stesse accadendo mettendola insicurezza all'interno della sua casa. A quel punto la donna in lacrime si è aperta ai due carabinieri accorsi in suo aiuto confidando loro le ragioni dell'insano gesto riconducibile a un grave recente lutto che l'aveva particolarmente segnata ossia la perdita di un genitore. La pattuglia dopo aver ascoltato e rassicurato la donna l'ha poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Campagna di controlli sul rischio listeria. I NAS di Ragusa hanno effettuato degli approfonditi controlli sul territorio in diverse aziende riscontrando tante irregolarità. I dettagli nel servizio. Alla luce dei recenti fatti di cronaca su decessi e intossicazioni alimentari causati dal batterio listeria, il Comando Carabinieri per la tutela della salute nell'ambito delle iniziative sul controllo della filiera agroalimentare, ha concentrato nell'arco di una settimana un blitz nei confronti di imprese produttive maggiormente esposte al rischio di contaminazione dal batterio. In tale contesto i carabinieri del NAS di Ragusa hanno eseguito 34 controlli presso macellerie, salumifici e industrie conserviere ricadenti sulle province di competenza, accertando numerose carenze igienico-sanitarie strutturali nonché detenzione di prodotti a base di carne sprovvisti di tracciabilità o con data di scadenza superata. In particolare gli ispettori del NAS nel corso di attività ispettiva eseguita presso un noto salumificio nisseno hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie tanto da richiedere l'intervento di personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della locale ASP per l'adozione di provvedimenti urgenti. Nello specifico è stata riscontrata la presenza di sporco, residui alimentari, macchie di sangue rappreso, residui untuosi, polvere e larve di insetti sulla quasi totalità della superficie calpestabile della struttura. Presso le celle frigo, inoltre, i NAS hanno rinvenuto più di 500 kg di salumi di cui gran parte con data di scadenza superata. Per il salumificio è scattato il provvedimento immediato di cessazione dell'attività, mentre al titolare dell'esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. Sempre in provincia di Caltanissetta, da un ulteriore controllo presso un'industria di lavorazioni, carni e preparazioni gastronomiche, è scaturito il sequestro di 75 kg di carne e di bovino, confezionata e pronta per la commercializzazione con data di scadenza superata. Analoga sorte è toccata a tre macellerie, salumifici, sitene, comuni di Rosolini, Noto e Ispica, presso le quali sono state riscontrate gravi violazioni in materia di igiene e sanità. Nel comune di Modica i NAS hanno individuato una macelleria salumeria che deteneva, all'interno di una cella frigorifera in precarie condizioni igienico-sanitarie, prodotti a base di carne freschi e stagionati in promiscuità tra loro, con considerevole rischio di contaminazione crociata da batteri. Altri controlli eseguiti dal NAS nell'ambito dell'articolato piano di controllo hanno portato al sequestro, presso una macelleria di Ispica, di 60 kg di carne destinata alla vendita, priva di tracciabilità che ne attesti la regolare provenienza. Passate al setaccio anche le industrie conserviere, dove spesso è alto il rischio di contaminazione dal batterio della listeria. In tale contesto, a Scicli è stata disposta la chiusura di uno stabilimento di conserve per gravi irregolarità. E a proposito di listeria di questo batterio, i carabinieri del NAS hanno trovato a Palermo dei formaggi contaminati. Il NAS di Palermo, nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, di concerto con il Ministero, a seguito dei recenti episodi di intossicazione dall'isteria connessi al consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura, ha proceduto a una serie di attività di verifica sui territori delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, finalizzate a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 39 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione dall'isteria, di urstel insaccati con stagionatura breve e prodotti similari, di prodotti caseari a limitata maturazione nonché di gastronomia con farcitura fresca e laboratori, allo scopo di verificare il rispetto delle corrette procedure e a tutela dei consumatori. A conclusione delle attività ispettive i terabinieri del NAS di Palermo hanno accertato irregolarità in 15 strutture a seguito delle quali sono state segnalate alle competenti autorità 16 persone contestando sanzioni per un valore di circa 45 mila euro. Nel corso degli interventi sono stati altresì rinvenuti e posti sotto sequestro 1.143 kg di alimenti irregolari per un valore commerciale di circa 12.600 euro, nonché eseguiti provvedimenti di chiusura o sospensione nei confronti di due imprese produttive e commerciali. In particolare i militari hanno rilevato un campione di formaggio fresco contenente valori elevati di listeria a seguito del quale sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione dell'attività di un'azienda fino al ripristino delle condizioni igieniche adeguate. Inoltre lo stesso NAS siciliano ha individuato anche due laboratori di analisi privati risultati non autorizzati presso i quali venivano redatti falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi di fatto mai eseguite. Cambiamo argomento, parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri nel Trapanese per la precisione a Castelvetrano e Mazzara del Vallo. Sono ben 13 le persone denunciate per vari reati. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo durante il ponte di Ogni Santi hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio denunciando al termine dell'attività 11 persone per svariati reati. Sei persone, tutte residenti a Mazzara e con precedenti di polizia, sono state deferite per occupazione abusiva di alloggio popolare. Uno di loro avrebbe anche allacciato abusivamente l'alloggio alla rete elettrica pubblica e pertanto verrà deferito anche per il furto aggravato di energia elettrica. Un tunisino di 28 anni, residente a Salemi, è stato denunciato per avere violato gli obblighi inerenti il daspo urbano cui risulta sottoposto in quanto sarebbe stato sorpreso in un bar di quel comune in evidente stato di ubriachezza. Nel medesimo contesto operativo, durante i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive alternative al carcere, sono stati denunciati per il reato di evasione due soggetti, un mazzarese e un tunisino, in atto sottoposti agli arresti domiciliari, in quanto al momento del controllo non sono stati trovati presso il domicilio previsto ma sorpresi per le vie della città. Durante i controlli al rispetto del codice della strada, sono stati invece denunciati due soggetti, uno sorpreso alla guida del veicolo sprovvisto di patente di guida poiché mai conseguita con reiterazione nel bienio, l'altro invece poiché sorpreso in possesso di un coltello di genere vietato. Anche a Castelvetrano i carabinieri hanno eseguito controlli mirati allo spaccio di stupefacenti e al rispetto del codice della strada, denunciando due persone sorprese alla guida dei rispettivi mezzi, una con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, l'altra invece senza patente poiché mai conseguita con reiterazione nel bienio. Torniamo a Catania dove un extra comunitario ha aggredito due poliziotte mandandone una all'ospedale, lo ha fatto perché voleva parlare con un agente uomo e non con una donna. Due poliziotte sono state aggredite a Catania davanti all'ingresso della questura da un 28enne originario del Bangladesh e senza fissa dimora, il quale è stato poi arrestato. L'aggressore si è scagliato contro le due agenti poiché voleva parlare con un uomo e non con una donna. Una delle due poliziotte, colpita violentemente con pugni al volto e alla spalla, è finita in ospedale con varie lesioni ed è stata giudicata guaribile in dieci giorni. Come detto, l'aggressore è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Esprimiamo la più totale solidarietà alle due colleghe, ha affermato Walter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia. Sono episodi, ha aggiunto, che dimostrano quanto assurdi e impensabili siano i pericoli che continuamente corrono i poliziotti, i quali devono essere messi in condizione di operare con le dovute garanzie e soprattutto certi che ogni atteggiamento aggressivo e violento, volto a metterne in discussione la funzione, la dignità e la sicurezza, venga trattato con la severità che merita. Parliamo di migranti, o meglio di emergenza migranti e della situazione a Lampedusa sempre più complicata. 40 migranti, fra cui 14 donne e 4 minori originari di Costa d'Avorio, Guinea, Sierra Leone, Nigeria, Mali e Burkina Faso, sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia di Finanza a largo di Lampedusa. Il gruppo è stato trasbordato sull'unità di soccorso e il barchino di 5 metri, che era partito dalla Tunisia, è stato lasciato alla deriva. Sono 1290 attualmente i migranti ospiti all'hotspot di Lampedusa, una struttura di prima accoglienza che potrebbe ospitarne al massimo 350. Per oggi, con i traghetti di linea per Porto Empedocle, è stato disposto dalla prefettura di Agrigento il trasferimento di 110 persone in mattinata e 80 in serata. Ieri, con 10 sbarchi, sono giunti sull'isola 354 migranti. L'ultimo barchino di 5 metri, con a bordo 11 tunisini, fra cui una donna e un minore, è stato agganciato dalla motovedetta dei carabinieri. Ancora cronaca con una notizia che arriva dal Siracusano, per la precisione da Noto. I carabinieri della stazione di Noto hanno tratto in arresto un 25enne in ottemperanza all'esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, ufficio esecuzioni penali. Il giovane, che dovrà scontare una pena di sei anni, sette mesi e 17 giorni di reclusione per aver commesso dei furti aggravati dal 2017 al 2021, è stato condotto presso la casa circondariale di Siracusa, Cavadonna. Lasciamo Noto, ci spostiamo adesso a Gela, continuiamo anche in questo caso a parlare di cronaca. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela hanno arrestato un 37enne gelese in esecuzione di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Caltanissetta, ufficio esecuzioni penali. L'uomo è stato condannato a una pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione per diversi episodi di ricettazione commessi tutti a Gela nell'anno 2013. L'arrestato, pertanto, dopo gli adempimenti di rito, è stato condotto dai poliziotti presso la casa circondariale di Gela dove sconterà la sua pena. Torniamo adesso nella Catanese per parlare di un incidente avvenuto ieri, vi mostriamo anche le immagini, un incidente che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, come vedete incidente che riguarda un mezzo pesante, si tratta di un auto articolato che per cause da accertare è uscito fuori strada ed è andato giù da un cavalcavia sull'autostrada A18 finendo poi nella strada sottostante ovvero la via nuova di ACI Sant'Antonio. Il conducente del mezzo è stato trasportato in ospedale per effettuare dei controlli ma incredibilmente e fortunatamente è rimasto illeso. Il mezzo pesante dopo diverse ore è stato rimosso dalla sede stradale e sono state ripristinate le condizioni di sicurezza. E con questa notizia ci fermiamo, per il momento è tutto ma l'informazione prosegue su Sicilia 24.